ciao a tutti amici bentornati su airion.net io sono manuel e vi do il benvenuto su killer frequency titolo sviluppato ed edito da team 17 è un titolo che potete trovarlo per tutte le console quindi playstation 4 e 5 famiglia xbox series xbox one e naturalmente per pc tramite steam è un titolo finalmente originale perché perché noi andremo in personale forest forest era un importante speaker radiofonico di successo che per ragioni cui non voglio svelarvi attualmente si trova in una piccola cittadina con una piccola rete provinciale fin qui tutto bene ad un certo punto però squilla il telefono il 911 e ci dirà caro forest devi alternare la tua competenza diciamo da dj con il cercare di smistare le linee telefoniche aiutare le persone perché c'è un killer in città e molte persone sono in pericolo quindi noi dovremo naturalmente portare avanti il nostro lavoro ma poi rispondere alle chiamate degli ascoltatori e aiutarli noi non vedremo mai la minaccia non saremo mai in pericolo perché siamo all'interno sempre della nostra stazione radio ecco perché è un titolo originale perché per la prima volta il male fuori noi siamo all'interno e dobbiamo aiutare le altre persone il titolo è molto bello avvincente e soprattutto dinamico e frenetico la grafica che ricorre un misto tra il cish hiding e il cartonesco è molto bella e soprattutto siamo nel 1987 quindi poster canzoni luci a neon insomma tutto è molto vaporwave è molto elettrizzante se volete un titolo diverso dal solito non fatevelo assolutamente scappare grazie per essere rimasti con noi e l'appuntamento è alla settimana prossima ciao